Tutto è fermo, tutto è fermo la carola di Pusse, tutto è fermo e non c'è più netto. Oggi c'è la panca dove? Dove se non c'è l'uomo c'è? Ma si passa però. E che c'è che si passa? C'è un pavoso tanto. Si passa però. C'è una preoccupazione, certo, perché se non roba, c'è un fatto di mura, e i mura sono da segnose. Qua siamo sulla 161 bis, abbiamo oltrepassato il centro urbano di Alcara e siamo proprio a 300 metri dall'uscita del paese. Tramite questa provinciale si arriva a Portella Cazzana e poi si scende per Longi, si possono congiungere anche le comunità di Oltre Longi, di Gala di Momertino, Frazzanò, Mirto, passiamo dall'altra vallata. Qua abbiamo riscontrato anche dei notevoli disagi perché praticamente a seguito di dissesti già avvenuti nel 1996, poi a fine degli anni 90 e già anche nel 2002 altri grossi sconvolgimenti territoriali, purtroppo questa strada è rimasta così per come ancora oggi la vedete dopo circa 20 anni e oltre ad effettuare dei piccoli interventi tamponi ancora ad oggi non si riesce a risolvere questo problema. Il nostro Dipartimento ha avviato una serie di interventi, di piste di emergenza, abbiamo dovuto anche aprire un varco per lungo un torrente, per una frana che aveva costruito un torrente, abbiamo fatto diversi altri interventi anche di contenimento con barriere per amassi, per crolli di massi che si sono verificati dal costo Neuroccioso che è un'altra situazione importante da attenzionare. L'intervento a supporto dell'amministrazione come Dipartimento in questi anni ne abbiamo fatto, abbiamo spesso orientativamente quasi un milione e mezzo di euro in tutti questi anni per supportare. Certo, chiaramente bisogna andare a investire con interventi strutturali più importanti che afferiscono alla sfera delle competenze dell'assessore del territorio. Ogni tanto fanno qualche piccolo intervento, però non vale niente, la sera c'è scura di un intervento che fanno, due lauretto, la mattina non si trova più, ma si trova magari a un altro punto che cammina, cammina, non ti ho notato se sposto. Anche di a Cristo, è interessante fare l'intervento, ma i soldi ce n'è, quando fanno due piccoli interventi si fregono i soldi, un lavoro fanno male. Non c'è nessuna, non ce n'è, come si dice, attenzione di fare le cose, non lo so, di chi è la colpa non lo sappiamo, se è del comune, se è della regione, se è del governo non lo sappiamo.